Benvenute e benvenuti al webinar löscher per studenti dal titolo NICE, un'introduzione al suo pensiero. Prima parte. Le dirette dei webinar per studenti sono pensate per gli studenti e per i docenti che intendono accompagnare e osservare la classe durante la diretta. Questo pomeriggio interverrà Silvia Capodivacca, docente di filosofia e storia nei licei, ha conseguito il dottorato di ricerca e svolto attività di ricerca presso l'Università di Padova. Già visiting professor presso la Columbia University of New York ha pubblicato volumi e articoli sulla storia del 1900 e la filosofia contemporanea di area francese e tedesca. Non mi rimane che augurarvi buon webinar e lascio la parola alla relatrice. Buongiorno a tutti, grazie Erika per la presentazione e grazie soprattutto a voi per essere qui oggi a questo primo incontro a proposito del pensiero, la figura e la personalità addirittura di Friedrich Nietzsche. Prima di cominciare vorrei lanciare un messaggio che è anche un po' un appello in particolar modo agli studenti presenti a questo webinar. Mi rendo conto infatti di quanto possa essere frustrante, perfino alienante in questo periodo l'ennesimo incontro a distanza, quale quello che siamo costretti a fare anche noi oggi. Sappiate che appunto la medesima frustrazione e alienazione la proviamo anche noi che siamo dall'altra parte, che siamo abituati a stare dall'altra parte della cattedra ma in uno spazio di fatto di condivisione, uno spazio quasi osmotico di conoscenza in cui appunto la conoscenza è reciproca e l'aumento dell'arricchimento personale è sempre bidirezionale. Ecco oggi e in questo periodo ormai da molti mesi ci troviamo invece di fronte ad uno schermo che difficilmente riesce a restituire la vivacità del setting di apprendimento che invece abbiamo nelle nostre classi. Ecco cerchiamo di fare in modo che questo momento sia un momento anche il più possibile di dialogo e di condivisione quindi io davvero vi invito con tutto il cuore a partecipare con domande, richieste di chiarimento e di curiosità. Abbiamo la fortuna di poter dedicare a Friedrich Nietzsche, appunto al suo pensiero, due incontri e di conseguenza insomma anche qualora non dovesse riuscire a rispondere e corrispondere alle vostre questioni oggi sarà mia premura aprire il prossimo incontro con tutte le vostre richieste appunto cercando di venire incontro a quelle che potrebbero essere le vostre curiosità anche in merito. D'altronde appunto l'argomento con cui abbiamo a che fare è un argomento che effettivamente ben si presta all'attività cerebrale anche di chi ascolta questo tipo di introduzione. Lo vediamo fin dal titolo, un titolo che ho scelto appunto il pensiero dinamite di Friedrich Nietzsche e che andremo a spiegare tra poco. Prima però vorrei dedicare qualche parola a un inquadramento della persona e come accennavo in precedenza della personalità dell'uomo Friedrich Nietzsche. Perché questo? Se normalmente non è mio costume almeno spendere troppe parole a proposito appunto della biografia degli autori che può risultare talvolta perfino noioso, un passo insomma relativamente soprassedibile, non è questo il caso del pensiero di Friedrich Nietzsche perché appunto esso si sostanzia proprio all'interno della sua vicenda biografica. Allora innanzitutto l'asso temporale all'interno del quale collochiamo la figura di Nietzsche è proprio quello della seconda metà dell'Ottocento. Essendo lui nato nel 1844 è morto nell'annus mirabilis e fatale del 1900. Perché dico questo? Perché effettivamente Nietzsche ha inaugurato il modo contemporaneo di fare filosofia e la coincidenza della sua morte proprio nell'anno, diciamo insomma indicativo del passaggio di secolo, è stata sottolineata da molti come per l'appunto una felice coincidenza. Allora qualche notizia a proposito di Nietzsche. Vedete ho collocato la sua figurina e il suo meme nella zona nella quale più o meno egli è nato, che è stato Röcken, un piccolo villaggio dell'attuale Germania ma dell'allora Prussia. Quindi Nietzsche insomma è un filosofo che potremmo definire oggi tedesco. Si laurea in filologia classica e non insegnerà mai filosofia. Un dato, un paio di dati, di elementi fondamentali. Allora innanzitutto la laurea in filologia classica significa che Nietzsche si è dedicato specificamente allo studio dei testi antichi latini e greci e poi in maniera conseguenziale rispetto ai suoi studi universitari egli ha insegnato lingua e letteratura greca all'università dai 25 ai 34 anni, quindi per quasi un decennio. Peraltro va sottolineato il fatto che a 34 anni Nietzsche sarà costretto ad abbandonare l'insegnamento universitario per ragioni specificamente di salute, ebbe una salute veramente cagionevole per tutta la sua vita, ma questo adesso lo vedremo assieme. Ma va detto che dopo la pubblicazione della sua prima opera di cui parleremo e il cui titolo è La nascita della tragedia dallo spirito della musica, di fatto il pubblico delle sue lezioni, era sempre più esiguo e non l'hanno di certo costretto a licenziarsi dall'insegnamento universitario, però diciamo che le sue lezioni non avevano un granché di successo appunto dopo la pubblicazione di questa opera che ha fatto uno scalpore incredibile e della quale però tutt'oggi noi siamo debitori per lo studio e l'analisi della grecità classica. Ecco, dicevamo, non insegnerà mai filosofia. Questo è un dato fondamentale perché va di fatto contro la rappresentazione stereotipata ed oggi maggioritaria per non dire unanime, secondo la quale filosofo è il professore di filosofia, possibilmente anche accreditato da un'istituzione universitaria. Ecco, nel caso di Nietzsche non è andata così. Nietzsche è una davvero delle figure chiave del canone filosofico contemporaneo, ma non soltanto contemporaneo, diciamo di tutto l'arco, di tutto lo spettro della storia e della filosofia dalle origini ai giorni nostri, eppure non è mai stato un professore di filosofia. Ecco, dicevamo, accennavamo anche prima, che per motivi di salute ha abbandonato il lavoro, la carriera accademica e ha viaggiato moltissimo. Viaggiava moltissimo in cerca di fatto di un clima che potesse confacersi alla sua salute che abbisognava appunto di sole, di calore e di sicuramente un clima che non era quello della Germania. Quindi viaggia prevalentemente nell'Europa del sud, dalla Francia alla Sicilia. L'Italia, peraltro, ha rivestito un ruolo chiave all'interno della biografia di Nietzsche, proprio perché in vari luoghi dell'Italia, sia dell'Italia meridionale ma poi anche dell'Italia settentrionale, Nietzsche ha stazionato e ha abitato per svariati anni. Uno delle conseguenze del suo cagionevole stato di salute è stato anche il fatto che Nietzsche ha letto molto poco rispetto agli standard attuali, ma anche rispetto agli standard dell'epoca. Nietzsche non è stato, non ha potuto essere un topo di biblioteca, quindi si è documentato, diciamo, ha reperito una serie di informazioni essenziali da parte dei filosofi del passato, dopodiché però il suo esercizio di pensiero si è concretizzato in un atteggiamento di viva critica e riflessione attiva a proposito di quei temi, ma anche in maniera autonoma, di fatto è distaccata dai suoi predecessori, proprio perché, benché abbia istituito taluni confronti, questi confronti non sono stati approfonditi da uno studio, diciamo, costante e coerente delle opere del passato. Nietzsche quindi è un pensatore davvero attivo, uno che ha pensato con la propria testa dall'inizio alla fine della sua vita. In che cosa consistevano i suoi stati di salute malcerta? Egli fu colpito periodicamente da dolori un po' sparsi in tutto il corpo, soprattutto poi delle fortissime emicranie, probabilmente è stato colto anche da Ictus nell'ultima parte della sua vita, e da cecità temporanea. Ecco, anche questa cecità ha condizionato il suo lavoro e la sua produzione, perché? Perché alcune delle sue opere addirittura egli è stato costretto a dettarle a degli amici fedeli, ma perché non era in grado appunto di scriverle a mano, essendo colto da queste cecità rispetto alle quali però egli non ha voluto arrendersi, ma appunto ha continuato la sua opera, diciamo, di analisi e di scavo filosofico dei problemi fondamentali del pensiero. Trascorre Nietzsche gli ultimi undici anni di vita sono molti, undici anni, sono un decennio, pensate a quello che avete fatto voi negli ultimi dieci anni della vostra vita e immaginate di trascorrerli ricoverati in diverse cliniche psichiatriche. Durante questo periodo, infatti, Nietzsche risulta chiuso in una impenetrabile aphasia. Aphasia significa che Nietzsche non parlava più, non apriva più bocca, e una progressiva, degenerativa, paralisi corporale. Ecco, questa ultima fase della vita di Nietzsche, che naturalmente non ha un corrispettivo in opere a stampa, essendo lui appunto completamente rinchiuso nella sua malattia ormai degenerata in modo inequivocabile, questa ultima fase è stata inaugurata da degli accessi di follia che colgono il filosofo mentre si trova in una città italiana, mentre si trova a Torino. E questi accessi di follia che appunto preludono alla fase finale della sua esistenza, sono anche testimoniati dai cosiddetti biglietti della follia. In che cosa consistono i biglietti della follia? In una serie di brevi messaggi indirizzati ad amici, a conoscenti, ma anche a personalità a dir poco di spicco, quali appunto l'imperatore Guglielmo, ma anche il re Umberto I d'Italia. E in questi biglietti Nietzsche si firma in una sorta di delirio istrionico della personalità nei termini di l'anticristo, il crocifisso, Dioniso, andando dunque a reperire e a identificarsi con alcuni tra i più noti personaggi concettuali a cui ha dato vita proprio nella sua opera. Quindi negli ultimissimi momenti di lucidità di Nietzsche, egli diventa tutt'uno con il suo pensiero, si identifica e va a coincidere con tutte quelle personalità concettuali, filosofiche, allegoriche a cui appunto aveva dedicato parte della sua opera fino a quel momento. Gilles Deleuze, un filosofo francese contemporaneo morto nel 1995, ha proprio parlato di Nietzsche come del filosofo che senza dubbio più di qualsiasi altro ha creato questa rassegna pressoché infinita di personaggi che si distinguono dai personaggi letterari che possiamo appunto trovare e reperire nei vari romanzi proprio perché hanno un portato e una densità filosofica che li rende per l'appunto dei veri e propri personaggi concettuali, cioè coloro che sulla scena della filosofia riescono a rendere una concettualità pregna di pensiero. Bene, questo per quanto riguarda appunto i cosiddetti cenni biografici doverosi nel caso della personalità di Friedrich Nietzsche. Ecco, diciamo che va tenuta in considerazione anche la percezione di sé di questo filosofo che egli ha avuto appunto della sua figura e della sua opera. Se andiamo ad analizzare diciamo quindi la considerazione che Nietzsche aveva di sé stesso potremmo anche vedere la follia come una sorta di diciamo esito parossistico di una tendenza che però era già in atto all'interno all'interno della personalità di questo filosofo perché effettivamente ha una altissima consapevolezza Nietzsche del suo ruolo all'interno del intero canone filosofico. Vi ho segnalato e copia incollato alla destra della slide di fatto quello che è l'indice di una delle ultime opere che il filosofo ha licenziato nel biennio 1888-1889 quindi appunto pochi momenti prima del crollo nella follia. Quest'opera si intitola ecce homo. Vedremo insomma tra poco come i titoli delle opere di Nietzsche dovrebbero essere affrontati come un capitolo a sé stante di un'enciclopedia sul filosofo perché sono tutti estremamente diretti, significativi e anche diciamo mirano al bersaglio, sono terribilmente provocatori. Ecco ecce homo è un'espressione di Ponzio Pilato che appunto Ponzio Pilato pronuncia nel momento in cui mostra il corpo di Cristo flagellato e sfigurato dal dolore. Ecce homo significa infatti ecco l'uomo ma è diventato poi nel corso dei secoli e dei millenni una sorta di sinonimo per dire ecco l'uomo martoriato dalla sofferenza. E Nietzsche sceglie significativamente proprio questa espressione per diciamo titolare la sua autobiografia intellettuale. Questa autobiografia appunto presenta una serie di capitoli abbastanza indicativi che farebbero pensare ad una sorta di megalomania incipiente, narcisismo incontenibile perché appunto appena successivamente al prologo Nietzsche dedica un capitolo, una sezione del libro alla spiegazione del perché sono così saggio. Poi perché sono così accorto, perché scrivo libri così buoni e in penultima battuta poco prima di consacrarsi alla gloria e all'eternità sottolinea una volta in più perché sente di essere un destino. Ecco quindi che se ci soffermiamo ai titoli sembriamo essere di fronte ad un disturbato mentale o poco più. In verità nel leggere anche quest'opera ci rendiamo conto di quanto Nietzsche fosse consapevole di sé ma non in senso appunto megalomane patologico ma nella forma del pensiero di cui lui di fatto si faceva veicolo e portavoce. Per esempio nel capitolo perché sono così saggio e gli spiega l'origine della propria saggezza ed è qualcosa di significativo forse anche per noi oggi, dicevo l'origine della propria salvezza nel fatto e della sua saggezza nella malattia che lo avrebbe appunto colpito ed accompagnato lungo tutto l'arco della sua esistenza. Secondo Nietzsche infatti la malattia sarebbe stata ciò che gli ha permesso di fortificarsi, di essere un uomo migliore e scrive trascorrere un lungo periodo di malattia fu come scoprire di nuovo la vita. Gustavo tutte le cose buone anche le piccole cose come difficilmente altri avrebbero potuto. Di fronte alla privazione delle libertà, della propria potenza di vita, Nietzsche non si sente colpito da una iattura, da una sfortuna clamorosa ma concepisce viceversa la malattia come una sorta di opportunità di crescita personale. Perché? Perché grazie alla malattia egli avrebbe potuto gettare uno sguardo attento a tutte quelle micro percezioni e sensazioni che altrimenti sarebbero passate inosservate. Quindi uno sguardo attento micrologico al mondo gli era derivato dal fatto che per lui ogni giorno di salute o di conoscenza, consapevolezza di sé, era un giorno, era un dono veramente importante. Quindi appunto la sua saggezza deriva dal dolore che ha provato. Appunto parlavamo della possibilità di attualizzazione di questo passo nicciano perché effettivamente ancora oggi nella situazione nella quale ci troviamo spesso ci lasciamo andare a dei moti di pessimismo incontenibili rispetto alla sciagura che ci sarebbe capitata, però varrebbe la pena forse anche sottolineare la chance che è insita in questa crisi che stiamo vivendo. Perché effettivamente magari possiamo, per esempio, riuscire a valorizzare maggiormente quelle che sono le piccole cose, uno dei concetti fondamentali in Nietzsche, le piccole cose, le cose quotidiane, proprio grazie al fatto che ci rendiamo conto di quanto esse siano importanti adesso che sono diventate anche rare e preziose. Nietzsche è esigente quindi verso se stesso ma anche nei confronti del suo lettore, perché anche il lettore, come l'autore nel quale lui si identifica, non può essere un uomo qualunque. Nietzsche quindi pretende moltissimo da sé e dagli altri e attenzione, questo non significa che Nietzsche sia un pensatore dell'élite, no. Nietzsche è viceversa un pensatore che richiede impegno. Lui non boccia a priori delle categorie umane che possano approcciarsi alla sua opera, ma richiede, esige da coloro che effettivamente lo vogliano comprendere, un impegno, una costanza, una coerenza e un approfondimento critico che non sono, dal suo punto di vista, soprassedibili. Infatti dice il lettore perfetto, il lettore perfetto delle sue opere, sottinteso, è un mostro di coraggio e di curiosità, con qualcosa di duttile, astuto, un avventuriero e uno scopritore nato. È quindi qualcuno che non dà per scontato quello che legge, che non si pone nei confronti della lettura come di un esercizio di ruminazione. Non si tratta semplicemente di assimilare delle conoscenze per poi rimestarle, riproporle, magari imparate, mandate a memoria al professore o alla persona di turno che ci si trova davanti, ma si tratta invece di scoprire, di avventurarsi nella conoscenza e nel sapere, per cercare appunto di verificare se quei ragionamenti siano validi o invece vadano viceversa corretti, ma con sguardo curioso e contemporaneamente coraggioso. Ecco, poi nell'ultima parte, quella dedicata alla spiegazione del perché lui sarebbe un destino, bisogna tenere conto del fatto che appunto Nietzsche era un grandissimo conoscitore dei greci e probabilmente nel concetto di destino, schicksal in tedesco, riecheggia in verità la concezione greca di destino che fa capo al termine moira. Ora moira in greco appunto destino significa, deriva dall'idea di prendere parte, avere parte nel mondo, essere dunque collocati all'interno di un certo spazio e diciamo il destino è il ruolo, la funzione che ci viene assegnata come se fosse una parte che noi dobbiamo assimilare, che noi dobbiamo accettare. Ecco che quindi appunto Nietzsche considera se stesso un destino, nel senso che è perfettamente consapevole della sorte che gli è capitata e infatti sostiene conosco la mia sorte. Un giorno sarà legato al mio nome il ricordo di qualcosa di enorme, una crisi quale mai si era vista sulla terra, la più profonda collisione della coscienza, una decisione evocata contro tutto ciò che finora è stato creduto, preteso, consacrato. Io non sono un uomo, sono dinamite. Ecco qui diciamo inquadriamo il senso anche del titolo che abbiamo voluto dare a questo paio di incontri. Appunto Nietzsche non è un uomo, Nietzsche è dinamite, è esplosivo, fa conflagrare tutta la tradizione di pensiero che è raggiunta dalle origini fino alla sua persona. Ed effettivamente Nietzsche aveva visto bene quale sarebbe stata la sua sorte perché obiettivamente oggi la filosofia è nicciana, cioè non può prescindere nessun filosofo contemporaneo dal confronto e talvolta scontro con la filosofia di Nietzsche. Ma ancor più diremo che l'intero orizzonte di pensiero, l'intero orizzonte culturale attuale e contemporaneo è permeato dai punti fermi a cui è giunto Nietzsche attraverso il suo pensiero. Dalle acquisizioni della riflessione di Nietzsche scaturisce poi tutto il modo di pensare contemporaneo. In particolare ci riferiamo al fatto che oggi non è possibile parlare di una verità immutabile, assoluta, di qualcosa che sia dato per certo una volta per tutte. Viceversa invece la verità è divenuta qualcosa di mutevole, di progressivo, che si fa, si disfa e si rifà in continuazione. Non esistono più appunto degli immutabili, qualcosa che stia stabile, epistemologicamente stabilito, fondato una volta per tutte. Non esiste il bello assoluto, non esiste il giusto assoluto, ma tutto viene condizionato e diciamo inquadrato, contestualizzato all'interno di un certo humus, ambiente culturale, sociale, estetico, politico e così via. Ecco, noi dobbiamo l'intercettazione di questo importantissimo elemento epocale proprio alla filosofia di Nietzsche, che per primo ha inaugurato il pensiero critico che prevede appunto la messa in dubbio di ciò che viceversa potrebbe essere passato come una certezza. Proseguiamo nella carrellata delle slide andando a considerare anche quello che è stato il giudizio da parte degli interpreti nei confronti dell'opera di Nietzsche. Perché? Perché di fatto, leggo, fino agli anni sessanta del secolo scorso, Nietzsche è stato considerato, attenzione, un reazionario, è stato considerato un conservatore, un nazionalista, un antisemita e più in generale un pensatore vicino alle posizioni di destra. Pensiamo che appunto il Nietzsche Archiv, che è il luogo presso il quale sono conservate tutte le opere nella loro versione originale e precedente alla pubblicazione, il Nietzsche Archiv è stato finanziato dai nazisti a scopo propagandistico. Infatti, vi ho messo nella slide appunto proprio una attestazione iconografica di questo, ovvero di niente meno che Hitler che va a visitare il Nietzsche Archiv. Dunque, come è potuto accadere questo? Intanto scusate, leggo una domanda da parte di Viviana. Si può parlare di destino quando Nietzsche viene a parer mio associato erroneamente al nazismo? Beh, neanche farlo apposta, non avevo letto ancora la domanda. Sì, possiamo appunto, stiamo parlando proprio adesso del nazismo, quindi mi farà piacere rispondere alla sua domanda direttamente. Ecco, dicevamo appunto, fino agli anni 60 Nietzsche è considerato un antisemita, un pensatore di destra. Come è potuto accadere? Beh, allora questa operazione, diciamo, ermeneutica sul pensiero di Nietzsche è stata inaugurata dall'opera di mediazione della sorella di Nietzsche, Elisabeth, che aveva appoggiato delle posizioni esplicitamente naziste. Al momento della morte del filosofo, Elisabeth prende in mano il lascito del fratello di Nietzsche, appunto, e decide di, diciamo, devolverlo alla causa nazista. Ma se andiamo a leggere effettivamente l'opera di Nietzsche, troveremo in essa dei durissimi attacchi alla cultura tedesca e alla Germania, quindi effettivamente non si potrebbe, non si dovrebbe parlare di Nietzsche nei termini di un pensatore appunto reazionario, nazionalista e soprattutto antisemita. E tuttavia questa operazione è stata resa possibile dal fatto che sussistono delle evidenze all'interno della riflessione nicciana, perché effettivamente Nietzsche è un pensatore antimoderno, antidemocratico e anche antisocialista, per non parlare del fatto che egli è stato disgraziatamente anche antifeminista. Quindi, insomma, la lettura, diciamo, di destra di Nietzsche, anche se non è corroborata nei fatti dalla lettera delle sue opere, tuttavia si fonda su una tendenza da parte sua a esplicitare dei pensieri che sicuramente non sono ascrivibili al pensiero, diciamo, democratico o ancor più socialista. Ma che cosa vuol dire per Nietzsche essere antidemocratico? Perché anche qui vale la pena fare un piccolo focus e adottare la lente di ingrandimento prima di lasciarsi andare a delle catalogazioni, a delle categorizzazioni che forse lasciano un po' il tempo che trovano. Nietzsche è antidemocratico, è stato etichettato come antidemocratico perché ha predicato di fatto che gli uomini non sono tutti uguali. Egli considerava viceversa l'idea che ogni persona potesse valere quanto gli altri una forma di appiattimento della natura umana, che viceversa, essendo terribilmente ricca e variegata, non deve risultare schiacciata sull'idea democratica invece di uguaglianza. Che gli uomini non siano tutti uguali, quindi, non significa che gli uomini, diciamo, non debbano godere degli stessi diritti fondamentali, ma che viceversa essi vanno valorizzati singolarmente, individualmente, per le loro potenze di vita, per le loro capacità, senza che vengano considerati come una massa informe. E proprio sul concetto di massa si va ad innestare la seconda critica di Nietzsche nei confronti del socialismo, una tendenza politica che stava prendendo naturalmente piede proprio nel corso di quei decenni. Ecco, anche in questo caso Nietzsche è antisocialista, ma in che senso? Egli è antisocialista perché detesta l'idea che l'umanità possa identificarsi con un gregge, non a caso appunto si usa la metafora dell'armento, no? Quindi l'idea del gregge come di una massa di uomini che si caratterizza per l'anonimato e per il seguire tutti in maniera acritica e irriflessa il movimento di pochi capopopolo che li portano appunto sostanzialmente dove vogliono loro. L'idea appunto della massa, del gregge, dell'armento, di questa indistinzione individualistica è per Nietzsche sostanzialmente insopportabile, ma non perché odi gli uomini, ma viceversa proprio perché ama talmente l'umanità, la soggettività, l'individualità che vorrebbe valorizzare per le capacità singolari di ciascuno ogni uomo e non appunto liquefare le singole personalità all'interno della indistinzione massificata. Cosa succede infatti poi in maniera altrettanto ironica, se vogliamo, nei decenni successivi? Grazie all'opera di sistemazione e di traduzione dei suoi scritti da parte di due autori italiani, Giorgio Colli e Mazzino Montinari, durante gli anni 70 del 900, Nietzsche è stato al contrario visto come un rivoluzionario e un teorico di sinistra, quindi è stato veramente tirato per la giacca e da una parte e dall'altra. E infatti appunto dopo questi decenni di censura da parte in particolar modo del mondo anglofono, britannico e americano, dell'opera di Nietzsche che cercavano proprio di espungere dal canone filosofico il pensiero di Nietzsche, grazie appunto alla sistemazione critica dei suoi frammenti, è emerso un altro Nietzsche, un Nietzsche che innanzitutto era un filosofo a tutto tondo e anche un filosofo il cui pensiero era un pensiero rivoluzionario, ecco qui si dice un teorico di sinistra, forse anche questo appunto di nuovo è un'etichetta che lascia un po' il tempo che trova, è di nuovo un'etichetta che mal si adegua alla ricchezza di pensiero di Nietzsche, perché più che inquadrarlo e incasellarlo all'interno di una ideologia politica, quello che andrebbe sottolineato, anche per appunto distinguerlo poi dalle derive naziste che gli erano state attribuite, ciò che andrebbe evidenziato è la sua capacità critica di pensiero. Nietzsche è stato infatti un vero e proprio maestro nell'esercizio dell'arte del sospetto. Cosa vuol dire l'arte del sospetto? Che di fronte ad una realtà data, un po' anche data per scontata, per certa, Nietzsche ha cercato di squarciare il velo di ipocrisia che caratterizzava questa realtà, andando a mostrare quali erano invece le forze, le linee di tendenza che soggiacevano a quella apparenza di realtà e che appunto la rendevano molto diversa e molto distante dalla rappresentazione stereotipata di essa. Nietzsche inoltre è un demolitore quindi del pregiudizio. Il giudizio di Nietzsche non viene mai prima pre di una fortissima analisi critica del problema al quale di volta in volta egli si rivolge o del quale insomma si interessa. E appunto per Nietzsche non esiste una verità che sia una verità comoda, non esiste una ideologia, non esiste quindi un pensiero al quale ci si possa adeguare in forma a critica e riflessa, ma bisogna sempre rimanere vigili rispetto appunto al pensiero stesso. Ecco, Emanuela invece dice però proprio la massa consente la possibilità dei totalitarismi o fasci appunto. Infatti è esattamente quello che stavamo cercando di dire appunto Nietzsche nel contrariare il pensiero socialista non diventa perciò stesso allora aderente o vicino alle posizioni nazionaliste, ma viceversa appunto cerca di sviluppare un pensiero che si distingua da queste catalogazioni. Ok, per quanto concerne invece lo stile di Nietzsche diremo che fin dai titoli le sue opere mostrano, lo accennavamo anche prima, di essere davvero provocatorie e anticonvenzionali. Qui abbiamo tutta una serie di titoli che potremmo addirittura a citare così in carrellata per rendere l'idea di quanto effettivamente sia vero che Nietzsche adotta uno stile pungente, ambiguo, enigmatico e mordace fin dalla titolazione delle sue opere e dei suoi libri. E pensiamo per esempio a Così parlò Zaratustra, il cui sottotitolo in maniera significativa recita, un libro per tutti e per nessuno. Come a dire, ci sono vari strati, vari livelli di lettura di quest'opera, lo si può leggere tranquillamente come un divertissement, come un libro di intrattenimento e tuttavia è un libro che nasconde delle verità profonde rispetto alle quali appunto è molto difficile arrivare. E dunque è un libro che apparentemente e che ad un certo livello del discorso si presenta come un libro per tutti, un libro di facile accessibilità, un libro godibile, un libro che è bello, che è divertente perfino leggere e però è un libro anche per nessuno, nel senso che al suo cuore, nel suo nocciolo, sono conservate delle verità indicibili che nessuno, che è come dire pochissimi, riusciranno effettivamente a capire e carpire. Ma ancora vi ho segnalato in questa slide l'anticristo, maledizione del cristianesimo, insomma in questo caso Nietzsche insomma lascia poco spazio all'immaginazione di quale possa essere la sua tesi rispetto al cristianesimo, che è quella, è la tesi di una condanna definitiva e senza possibilità di appello, al punto proprio da ritenere se stesso come una sorta di incarnazione di anticristo, una figura contraria, opposta, ma per certi aspetti complementare quindi a quella di Cristo in croce. Non a caso appunto abbiamo visto nei biglietti della follia e gli arriva anche a firmarsi il crocifisso. Altri titoli che mi vengono in mente sono quello della Gaia Scienza, appunto anche qui, un ossimoro in atto. Si parla di scienza, quindi qualcosa che si riferisce all'episteme classica, che tendenzialmente dà l'idea di qualcosa di solido, di stabile, di definito e addirittura definitivo. E però in Nietzsche la scienza ha da essere, deve essere Gaia, quindi allegra, felice, leggera. Quindi bisogna rimescolare i presupposti della scienza per renderla diversa da quella che sembrava essere. Un altro titolo significativo è quello di Aurora, pensieri sui pregiudizi morali. Aurora è un titolo estremamente evocativo di una sorta di scenario inedito aurorale, per l'appunto, nel quale la morale, gli atteggiamenti e i comportamenti non sono più categorizzati come lo erano fino a quel momento. Quindi l'idea proprio di uno stato virginale del mondo, di uno sguardo virginale al mondo, come se fosse possibile appunto un vero e proprio nuovo inizio. L'attenzione di Nietzsche si rivolge al dettaglio e gli si definisce orafo della parola e quando si parla di oreficeria della parola naturalmente il riferimento implicito è al ritaggio filologico che lui conserverà all'interno delle sue opere lungo tutta la sua produzione. Nelle sue opere gli unisce brevità e densità. Sì, effettivamente i suoi sono dei pensieri che potremmo definire pensieri multistrato e sono un po' simili a quelli che noi abbiamo ricevuto in eredità in forma di frammento dall'antichità. Pensiamo ai pensatori arcaici. Dei pensatori arcaici c'è arrivato il cosiddetto campo di macerie, quindi solo una serie di frammenti e su questi frammenti poi successivamente, nei secoli e millenni successivi, i vari studiosi si sono spaccati la testa per cercare di capire parola per parola che cosa essi potessero significare nella loro appunto ambiguità quasi oracolare. Ecco, anche per Nietzsche c'è, cioè anche Nietzsche richiederebbe al proprio lettore un esercizio microscopico di questo tipo sulla sua opera. I suoi pensieri infatti sono delle vere e proprie frecce e come le frecce mirano sempre, hanno sempre di mira un bersaglio e come le frecce, come gli strali, sono terribilmente pericolosi, quindi enigmatici eppure pericolosi, dinamitardi. La Nietzsche adotta diverse tipologie di scrittura, passa dagli aforismi, che sono una delle sue tipologie di scrittura preferite, quindi delle brevi sentenze ad effetto nelle quali viene concentrato un pensiero in poche righe, ma poi si dedica anche alla scrittura di poesie, di massime allegorie concettuali, nelle quali il simbolismo è veramente portato quasi all'eccesso e ancora oggi appunto proprio gli studiosi si interrogano su che cosa effettivamente alcune allegorie possano davvero significare, o meglio, quale sia lo spettro di significazione di queste allegorie, perché poi molto spesso in Nietzsche il senso non è un senso unico, ma è una molteplicità di sensi che vengono coinvolti all'interno delle sue parole e dei suoi ragionamenti. E poi ancora si dedica a narrazioni ricchi anche talvolta di esperimenti mentali, che cosa succederebbe se immaginiamo che, ok? E poi infine anche la cosiddetta prova saggistica. Bene, per quanto riguarda, vedo qui, allora, professoressa possiamo fare un parallelo tra Saramago e Nietzsche? Beh, allora, a quale opera di Saramago si riferisce? Perché a me viene in mente cecità o la caverna, dunque la caverna sicuramente ha degli echi platonici e per quanto riguarda cecità, sì, potremmo forse sì istituire una sorta di parallelo nel fatto che anche Nietzsche considera, diciamo, la maggioranza delle persone a volte effettivamente in uno stato di cecità e ciò che però lui si propone di fare attraverso la sua opera è proprio quella di rendere visibile ciò che fino a quel momento era stato trascurato e che aveva reso appunto gli uomini attorno a lui al pari di zombie o poco più. Ok, ci dedichiamo questi ultimi minuti che ci rimangono alla critica, alla tradizione filologica perché le prime frecce che Nietzsche lancia vengono scagliate contro l'ambiente all'interno del quale Nietzsche stesso si è formato, quindi quello della filologia. Si tratta quasi di un parricidio che però ci insegna tanta filosofia, Nietzsche incluso, è un passo necessario quello del parricidio, quindi di uccidere i propri padri, di andare oltre e contro la tradizione, il lascito che ci viene consegnato da chi ci precede, quello del parricidio appunto è forse un passo necessario per riuscire a divenire grandi, a maturare, ad essere effettivamente degli individui autonomi nell'esercizio del pensiero. Ecco quindi che non è casuale né trascurabile il fatto che Nietzsche si concentri proprio nei confronti del filone filologico che lo aveva preceduto. Perché? Perché secondo Nietzsche la Grecia antica non è il luogo di espressione degli ideali di forma, armonia e misura, ma un terreno di scontro e incontro tra due diversi principi. Le conoscenze che ha acquisito attraverso la sua opera di studio dell'antichità classica permettono a Nietzsche di togliere questa patina di ipocrisia in voga in relazione all'antichità della Grecia classica almeno da un secolo, quando cioè si era affermato il movimento del neoclassicismo grazie anche all'opera di Winkelmann. Ecco, Nietzsche sostiene che non c'è olimpionica serenità, non c'è compostezza, non c'è pace nella Grecia antica, ma anzi essa ha raggiunto i vertici, le vette apicali della cultura di cui ancora oggi noi ci rendiamo debitori, proprio perché essa si è mostrata come un palcoscenico presso il quale due principi in contrasto tra loro sono andati a cozzare di fatto uno contro l'altro e questi due principi sono il principio Apollineo e Dionisiaco. Apollineo è il principio legato ad Apollo, dio del sogno e dell'illusione, che rappresenta la propensione all'ordine e all'unità ed è custode delle istituzioni civili. Personifica dunque la razionalità, il sole è il suo simbolo perché dona luce e chiarezza. Leggo anche che cos'è il Dionisiaco, principio che fa capo a Dioniso, dio dell'ebbrezza, dell'eccesso, della forza impulsiva e della follia. Raffigura ciò che è ambiguo e irrazionale, ma per questo protegge la vita nelle sue forme più caotiche, spontanee e istintuali. Allora da un lato abbiamo la razionalità, ma facciamo attenzione, la razionalità coincide in Nietzsche con il mondo del sogno e dell'illusione, quindi la razionalità stessa in quanto tale è una illusione. Dall'altro abbiamo Dioniso, che invece è l'infrazione, la rottura delle barriere, è il dio che sconvolge le leggi, i costumi e le gerarchie. Vediamo anche la raffigurazione iconologica, dove si sono rappresentati appunto Apollo a sinistra, Dioniso a destra. La maschera di Dioniso è l'unica maschera che nella tradizione antica si presenta in maniera frontale. E perché appunto Dioniso lancia questo sguardo frontale al proprio interlocutore? Perché effettivamente è il dio della presenza intensa, vibrante. È il dio di fronte al quale non si può, di fronte al cui sguardo non si può effettivamente sfuggire. È un dio che interpella, esige e richiede appunto lo scardinamento di quelle norme istituzionali che invece sono custodite da Apollo. Ecco, nella tragedia greca vanno a consolidarsi queste due linee, di fatto vanno a convergere perché la tragedia greca permetterebbe sia il mantenimento della forma attraverso proprio la processualità tipica della tragedia, che di fatto è la narrazione di una storia, ma c'è una forte incursione dell'elemento dionisiaco nei termini di duplicità, ambivalenza e dissidio. Questi sono forse tre dei concetti fondamentali che emergono dalla tragedia greca. Brevissimamente, la duplicità. Pensiamo ad Edipo, ok? Edipo è colui che è padre e fratello dei propri figli. È figlio e sposo della propria madre. È duplice per eccellenza. Ambivalenza. Prometeo. Prometeo dona la tecnica agli uomini, ma quella tecnica, che è un dono, è in realtà anche una catena, qualcosa che appunto condizionerà per sempre lo sviluppo del genere umano. Quindi ambivalenza del dono prometeico. È un vantaggio, ma istituisce anche tutta una serie di svantaggi. E poi il dissidio. Antigone, per esempio. Un fortissimo dissidio interiore nello scegliere se seguire la propria legge morale o seguire invece l'etica, i costumi imposti dalle istituzioni della comunità alla quale appartiene. Ecco, su questo appunto si gioca tutta la vetta culturale che viene incarnata dalla Grecia, appunto, nella tragedia si consuma di fatto l'incredibile storia culturale greca. Proprio perché con la tragedia riusciamo a capire attraverso forme che sono forme appolline, chiare, razionali, ben evidenti, dei contenuti, vengono veicolati dei contenuti che però hanno un portato dionisiaco significativo. Io temo che dobbiamo fermarci qui, perché sono le 57 e mi avevano detto di chiudere attorno alle 55. Chiedo conferma a Erika, se no magari rispondo alla domanda. Risponda pure alla domanda e poi chiudiamo. Sulla possibilità di una lettura lucida obiettiva del pensiero politico di inizio possiamo considerare attendibile il testo di Ravela? Ok, sì, consiglio. Il testo di Roberto Escobar è un testo che può essere preso in considerazione per cercare di inquadrare, diciamo, un pochino il versante politico del pensiero nicciano. Prima appunto si parlava di Saramago, Cecità appunto, sì, quindi veniva confermato il romanzo Cecità. Mi sembra che ci fosse anche un altro commento a proposito, ma forse mi sono sbagliata. Va bene, vi ringrazio e ci vediamo a questo punto lunedì prossimo, direi, con la seconda parte di Nice nella quale cercheremo di affrontare i temi cruciali del suo pensiero. Arrivederci. Grazie, grazie professoressa. Grazie anche ai partecipanti. Grazie a tutti.